ragazzi oggi inizia la stagione dei funghi con il galletto guardate qui che roba guardate qui guardate siamo in un punto un po scosceso e uno si entra a vedere su in fondo andate che roba adesso mi vuole un po di pazienza guardate i galletti guardate i galletti fantastici fantastici e tra l'altro ancora più bello adesso vi saluto alla prossima ciao ciao ciao